Martedì 3 marzo 2015 alla multisala Cineotto di Montevarchi è stato rappresentato per la terza volta il film ADEC, la nostra rubrica per tre volte ha seguito in tour questa pellicola firmata da un giovane regista fiorentino, Alessandro Cecchini, che vedete al mio fianco, che è anche il protagonista maschile del film, la protagonista femminile Lavinia Parissi, che stasera non è con noi a Montevarchi, però è stata ospite della nostra rubrica in occasione della seconda tappa del tour toscano del film a Pistoia nel bellissimo cinema e il Globo, un cinema storico della nostra regione, questa è una sala moderna però dobbiamo dire è altrettanto bella e quindi per ora il tour viene benedetto anche dall'accoglienza in queste sale frequentatissime della nostra regione. Per evitare magari di farti le stesse domande che ora non mi ricordo più ma che ti ho fatto in occasione delle prime due proiezioni, quella al Cinema Alfieri di Firenze e quella già evocata poc'anzi del Cinema Globo di Pistoia, vorrei un po' sintetizzare lo spirito di questo film. Qui c'è la lotta fra il bene e il male e stasera tu hai scelto per rappresentare le due anime del film due dei protagonisti, altri li abbiamo presentati in occasione degli altri servizi, stasera con noi oltre al regista, che vedete al mio fianco ovviamente, ci sono anche Ferdinando Ferrini che è un cattivo nel film, il cardinale e insieme a lui c'è Sandra Bonciani, mamma di Sofia, ovvero il bene. Possiamo in estrema sintesi definire così il film, uno scontro fra il bene e il male che è un po' un classico nella storia del cinema. Possiamo anche svelare alla fine se vince il bene o vince il male o c'è un pareggio e si rimanda tutto alla partita. Lasciamo sempre un po' di curiosità, sempre che allo spettatore, di vedere appunto se trionferà il bene o trionferà il male. Comunque sì, diciamo in chiave simbolica c'è questa rappresentazione tra lo scontro tra il bene e il male, ovviamente tutto rappresentato con i personaggi simbolici, Sofia Credi interpretata dall'attrice Lavinia Parissi e il male poi rappresentato dai Mediocheli con tutti gli altri suoi personaggi insieme anche a Ferdinando Ferrini che rappresentano diciamo tutta la schiera dei personaggi simbolici del male. Però diciamo a far da contorno dal film ci sono tanti anche altri personaggi che vanno a indagare, diciamo che devono scoprire se c'è del bene, se c'è del male all'interno di questa storia e appunto come c'è il professore Giovanni Cardini interpretato da me abbiamo anche la giornalista Sandra Neri interpretata da Giusilandi che questi due personaggi in pratica hanno lo scopro proprio di indagare nel film questo caso misterioso di Sofia Credi che ci sono queste guarigioni, queste cose misteriose. Facciamo un flashback. Esatto. Allora intanto spieghiamo il significato del titolo perché è stato scelto questo titolo inusuale, non è che si chiama Tramonto a Firenze il film, quindi è un titolo abbastanza criptico possiamo dire così. È un titolo simbolico anche questo, se spiego il significato del film, anzi se spiego il significato del titolo appunto spiego il significato del film perché è un termine, è un vocabolo, è un vocabolo che veniva utilizzato proprio da un antico medico che è esistito nel passato che si chiama Paracelso. Che cosa è questo termine, questo termine ADEC? Lo scopriremo appunto vedendo il film. È una bellissima promozione. Allora colgo l'occasione per farti subito una domanda inerente a questo tuo ultimo intervento. Dove sarà la prossima proiezione? Così i telespettatori incuriositi anche dal scoprire il significato del titolo verranno sicuramente alla prossima proiezione. La prossima proiezione sarà mercoledì 25 marzo alle ore 21.30 al cinema La Perla di Empoli. Un'altra perla, fra virgolette, dell'esercizio toscano. Allora, questa protagonista vende o regala, spesso regala, che vende una pozione misteriosa. Un qualcosa di particolare che non è proprio una cura o una medicina. È proprio, è un qualcosa, è un qualcosa che bisogna vedere il film per capire che cos'è. Questo è un altro bellissimo spot per il film. Mi piacerebbe dirlo, però... Però in pratica, ecco, lei con questa cosa vuole veicolare un messaggio, un messaggio d'amore, una conoscenza, una verità. E lo fa proprio, appunto, utilizzando questo suo dono. E poi il perché dovrà fare questo verrà, diciamo, nel film, raccontato da un personaggio chiave, che è presente nel film, che è il maestro Alchemicus. Un gran personaggio, diciamolo subito. Questo lo puoi dire, però. Sì, sì, sì. Interpretato da Alessandro Benvenuti. Io pensavo tu dicessi, chi vuol scoprire chi è il personaggio, venga in Polacino a Pele. Vabbè, questo lo possiamo dire. Possiamo passare ai due artisti che hai scelto stasera per rappresentare le tantissime persone che hanno lavorato al film. Stasera, siccome alcune location, ricordiamo il motivo anche di questa proiezione, una location straordinaria, una farmacia che si trova a Mercatale di Arezzo, ha ospitato una delle scene del film e stasera c'erano ovviamente i farmacisti e tutti gli avventori della farmacia che si sono trasferiti in massa a Montevarchi. Esatto, alla farmacia Soldani Salvini abbiamo girato una scena del film e questa sera siamo stati molto felici di aver fatto vedere il film a loro e anche a tutte le comparse che hanno partecipato all'interno di questa scena. Allora, tu addirittura sei l'emblema del buonismo perché addirittura incontri tua figlia e tuo marito in Paradiso. Come si sta in Paradiso? Siamo tutti curiosi di saperlo perché prima o poi ci potrebbe capitare da andarci. Allora, io infatti interpreto la mamma di Sofia e incontro mia figlia e mio marito in questo giardino sospeso, bellissimo. Devo dire anche a rivedere, ci si sta bene. Si spende il giusto, quindi... Devo dire quasi gratis, quindi ci si sta molto bene. E devo dire anche rivedendo il film ho visto una sorta di atmosfera proprio grazie anche alle riprese di Alessandro e di Riccardo che hanno reso proprio l'atmosfera credibile e rapportata proprio alle emozioni, ai sentimenti che volevamo riprodurre. Benissimo, allora passiamo dal bene al male. Il tuo personaggio spieghiamolo senza dare troppe indicazioni perché altrimenti al Cinema Perla verranno meno spettatori. Quindi incuriosiamo il più possibile i nostri telespettatori intorno al tuo personaggio che è un po' l'emblema del male. Anzi qualcuno tu ha detto nel pubblico, conoscendoti nella vita, stentava a credere che tu potessi essere credibile come cattivissimo. In effetti in realtà la cattiva è lei, io sono il buono. Insomma, no, niente che dire, mi sono un po' impressionato anch'io vedendomi così cattivo. Sì, effettivamente non credevo di essere, è stato un Alessandro che ha tirato fuori il peggio di te. Il peggio di Messi, in tutti i sensi. A questo punto noi ringraziamo, poi ci sono qua al Cinema ovviamente anche altri personaggi, vedo qua tua sorella che è anche soggettista e sceneggiatrice insieme a te del film. e citiamola magari se ci raggiunge per la conclusione di questo servizio perché vorrei che anche lei invitasse i nostri telespettatori a partecipare alla quarta tappa del tour toscano di ADEC. Ciao, benvenuta. Buonasera. Tu hai già visto il film quante volte? Eh, diverso. E ogni volta che lo vedi, stasera cosa hai scoperto? Qual è stato il lato, fino a stasera, oscuro del film che non ti era balzato agli occhi e che stasera invece hai percepito? Ah, ho percepito... Un piccolo gesto, una recitazione... Rivedendolo ho percepito innanzitutto la bravura di tutti, degli attori principali e soprattutto della protagonista Lavinia Parissi, Emidio Kelly, Lande Giussi e tutti gli altri anche qui presenti, ora io non mi ricordo, che veramente sono stati veramente bravi perché secondo me, io non sono del settore, però riuscire a trasmettere un messaggio così profondo non è facile e quindi secondo me sono... Si respirava sul set perché di solito il contenuto del film influenza anche un po' se il film è comico, magari il set è un po' più cacerone, questo è un film rigorosissimo, è serio e quindi com'era il clima? Beh, il clima ho visto molta professionalità da parte di tutti, molto impegno anche perché tutti quanti hanno creduto in questo progetto e poi io personalmente tantissima attenzione, io ero molto concentrato nel fare la direzione del film, comunque quindi diciamo anche il clima esterno non ho potuto diciamo recepirlo al 100%, comunque di quello che ho visto e di tutto quello anche che mi hanno detto c'è stata molta professionalità da parte di tutti. Benissimo, allora noi invitiamo i nostri telespiedatori a verificare se quanto ci ha detto fino a questo momento Alessandro Cecchini, protagonista maschile, regista del film, è vero e per farlo bisognerà venire al cinema, il cinema alla perla, mercoledì 25 marzo a Empoli, alle ore 21 e mezzo. È un liquido che guarisce tutto, sono più di 5000 le persone guarite da questa misteriosa pozione di Sofia Cremi. Dobbiamo fermarla. La nostra vita è imprigionata dentro un segreto. Tu pensi che quello che ti circonda sia la vera realtà? C'è un sistema per entrare in altre dimensioni, Sofia l'ho scoperto. Cosa c'è dentro? Tu dimmi cosa vuoi trovare e io ti dirò chi sei. Pietro Lequint del mondo visibile ve ne è un altro invisibile di energia. Cercare di capire cos'è nascosto dentro di noi. Lei ha mai indagato per sapere se il professore fosse a conoscenza dei segreti. Ti aspettavo. Ti aspettavo. Ho potuto. Grazie a tutti.